Si terrà questo pomeriggio l'open day su prenotazione presso il centro vaccinale Città di Agropoli dedicato a quanti hanno il Green Pass già scaduto o in scadenza prima del 13 febbraio compreso. Saranno disponibili 400 dosi di vaccino. Abbiamo intervistato la responsabile del centro di vaccinazione del distretto 70, dottoressa Granito, che ci spiega anche quando saranno possibili le vaccinazioni alla fascia 12-18 anni. C'è un open day proprio per offrire la dose booster ai cittadini, agli assistiti e anche in considerazione del fatto che sono in scadenza molti Green Pass. Quindi è importante sapere che lunedì 31 gennaio nel pomeriggio, nella fascia pomeridiana, ci sarà la possibilità fino a 400 dosi disponibili di coprire anche con la dose booster il ciclo vaccinale. In tanti ci hanno chiesto anche quando ci sarà un open day dedicato ai ragazzi alla fascia 12-18 anni con il vaccino Pfizer? C'è in previsione? Dipendentemente da una giornata dedicata, tutti i pomeriggi è possibile anche offrire ai cittadini, anche per i non convocati, la vaccinazione ovviamente. Noi ogni pomeriggio comunque vacciniamo anche una certa percentuale di soggetti non convocati. Quindi anche ragazzi dai 12 ai 18? Sì sì, alla fine tutte le sere, comunque in particolare il martedì però, il martedì pomeriggio noi abbiamo il farmacista che diluisce Pfizer e quindi pertanto invito il martedì pomeriggio a coloro i quali non hanno ancora effettuato la booster di presentarsi qui per la vaccinazione. Grazie. 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 Grazie.